Benvenuti a tutti i nostri ospiti, buon pomeriggio e prima di tutto grazie. Grazie a tutti i nostri clienti, buon applauso per i nostri clienti. Vi vediamo che la gente con le persone, questo è il motivo che siamo qui. Luca è uno dei ragazzi che comprende questo molto bene. Io voglio ringraziare prima di andare al rimbocampo di altre persone, le persone che sono l'interno, perché oggi ho l'honneur di essere il frontmano, ma potrei essere il frontmano solo grazie alle persone che lavorano dall'interno, e con me, ma potreste questo succedere. La tua benedizione diciamo, Signore, ti benediciamo per quello che già ci hai dato. Amen. Grazie mille Don Giuseppe. Grazie mille Don Giuseppe. Grazie a tutti. I have to say that I have the best team ever that I can ever. Not because, like I said, they are the best manager in Italy, but because they are the best team in Italy and they are a group of people that are amazing. And like, let's say, they go in the world for me, I go in the world for them. I go in the world for me, I go in the world for me, I go in the world for me. I go in the world for me, I go in the world for me. Grazie.